Pace e bene e bentornati. Oggi il 4 luglio noi ricordiamo Santa Elisabetta di Portogallo. Ascoltiamo. Elisabetta nacque a Saragozza nel 1271. Figlia del re di Spagna Pietro III, venne data giovanissima in sposa a Dionigi, re del Portogallo, da cui ebbe due figli. In quello che fu un matrimonio difficile seppe dare la testimonianza cristiana che la portò alla santità. Alla morte del marito donò i suoi averi ai poveri e ai monasteri, diventando terziaria francescana. Dopo un pellegrinaggio al santuario di Compostela, in cui depose la propria corona, si ritirò nel convento delle Clarisse di Coimbra, da lei stessa fondato. Dopo la morte, avvenuta nel 1336 ad Estremozzi, in Portogallo, il suo corpo fu riportato al monastero di Coimbra. Fu canonizzata a Roma da Urbano VIII nel 1625. Elisabetta, donna di una grande profondità spirituale, ha avuto un matrimonio molto molto difficile con il sovrano, il quale era spesso infedele nei suoi confronti. Lei ha avuto sempre un atteggiamento di grande misericordia nei confronti del marito e nonostante i tanti torti subiti, le è rimasta non solo fedele, non solo al suo fianco, ma è stata anche una preziosa consigliera, il cui beneficio è stato veramente grande anche per tutto il popolo di quel tempo. Che cosa ci insegna questo esempio? Ci insegna l'amore di una donna che sa guardare oltre. Pensiamo a tutti i casi della vita quotidiana in cui in una storia d'amore avviene questo episodio tragico, quello del tradimento. È un episodio brutto che reca tanta tanta sofferenza, ma la bella notizia di questa testimonianza e del cristianesimo è che questa sofferenza si può superare. Allora preghiamo Santa Elisabetta proprio per questo, perché tutte le persone che sono state tradite riescano a superare questo momento riscoprendo l'amore per la persona sposata, se è sposata, e quindi possano diventare portatori della misericordia di Dio. È un percorso particolare, ma io personalmente conosco tante coppie che hanno saputo affrontarlo. Quindi preghiamo per coloro che in questo momento stanno portando questa croce. Proprio con l'intercessione di Santa Elisabetta vogliamo che riescano a superarla e a riscoprire un amore ancora più grande. Santa Elisabetta prega per noi. Grazie a tutti.